Rocket, segui quelle impronte! Guardate, Rocket sta sciando! Stop! Non sono mai scesa da una montagna così prima d'ora! Andiamo ragazzi! Non abbiate paura! Fate gli sciocchini! Avanti, facciamoli insieme! Muoviamo anche le mani al ritmo! Oh! Non ho avuto paura! È stato divertente! Oh oh! Ecco un'altra discesa! Ehi! Questa montagna sembra ancora più alta! Quindi faremo gli sciocchini ancora di più! Questa volta muoveremo al ritmo la testa, d'accordo? Muovete la testa! Pronti? Non ho avuto paura neanche un po' È stato uno spasso! Oh oh! C'è un'ultima discesa! Questa montagna è la più alta dell'Elapponia! Io so cosa fare! Muoveremo la testa e le mani nello stesso momento! Muovete testa e mani insieme! Pronti? E nessuno ha avuto paura! Grazie tante per aver fatto gli sciocchini! Andiamo ragazzi! Adesso dobbiamo trovare la piccola Renna! Giusto Quincy! È la nostra missione!